Eccoci alle previsioni per il fine settimana. Dopo l'intenso fronte di venerdì, nel fine settimana la situazione meteorologica sulla regione migliorerà per l'arrivo di correnti più secche atlantiche dopo il flusso umido invece che abbiamo avuto venerdì. Quindi per la giornata di sabato cielo poco nuvoloso in genere in pianura e sulla costa variabile in montagne e zone orientali. Ci sarà ancora l'occasione per qualche rovescio, qualche temporale sulle zone orientali e forse qualche breve pioggia in montagna e forse qualche spruzzata di neve ma si tratta di cose di poco conto. Possibilità di nebbie per quanto riguarda le ore notturne in pianura e nelle valli. Per la giornata di domenica bel tempo, ci potrebbe essere qualche velatura al mattino ma poi in giornata cielo sereno su tutta la regione, temperature massime intorno ai 14-15 gradi su pianura e costa, minime che invece col cielo sereno ovviamente scendono verso i 4-5 gradi in pianura intorno ai 10 lungo la costa. Lo zero termico sarà intorno ai 1700 metri circa. Per la giornata di lunedì avremo inizialmente bel tempo, cielo sereno al mattino di lunedì, poi dal pomeriggio tenderà ad aumentare la nuvolosità per una nuova perturbazione che si forma o che si andrà formando nel Mediterraneo e che tenderà a risalire l'Adriatico facendo diciamo da innesco per venti di bora che ci interesseranno poi soprattutto nella giornata di martedì con maggior copertura del cielo e possibilità di qualche debole pioggia. Quota neve oltre i 2000 metri circa e potrebbe essere che nella giornata di mercoledì la perturbazione diventi un po' più intensa. Dall'Osservatorio Meteo Regionale dell'ARPA un saluto da Marcellino Salvador.